Benvenuti in un nuovo contributo di allenatore.net e questo oggi andiamo a vedere un articolo molto interessante di Luca Danieli che si occupa dell'attacco della profondità, in particolare l'attacco dell'ultima linea che poi è quella più importante perché è quello che poi porta alla finalizzazione chiaramente facendo anche accenno al fatto che comunque l'attacco e il superamento delle linee non riguardano soltanto l'ultima linea ma anche le altre linee precedenti e quindi comunque le variabili che incidono sull'attacco della profondità relativa e invece quella assoluta che è appunto l'ultima linea andiamo a vedere dove si trova il contributo di Luca Danieli all'interno di allenatore.net e poi lo scarichiamo in pdf e lo guardiamo insieme eccoci qua all'interno di allenatore.net siamo nella sessione contributi in particolare ultimo focus marzo 2022 l'articolo come detto è quello di Luca Danieli attaccare la profondità per i requisiti e i principi lo scarichiamo insieme in versione pdf abbiamo scaricato il contributo in pdf attaccare la profondità per i requisiti e i principi Luca Danieli prima di mostrarci le esercitazioni si fa una bella introduzione dove va a evidenziare quali sono gli aspetti più importanti per quanto dei principi, dei prerequisiti e delle variabili che incidono appunto sull'attacco della profondità ci parla chiaramente di quali sono le variabili più importanti ci fa un accenno del concetto di attrattori invasori le diverse funzioni all'interno appunto della manovra offensiva che sono i giocatori che attraggono i giocatori avversari ci sono invece i giocatori deputati poi da invadere proprio quello spazio, quell'ultimo spazio fa un accenno al fatto un aspetto strategico interessante che spesso quando non abbiamo spazio quindi una squadra avversaria non ce lo concede e si abbassa molto dobbiamo essere bravi a chiamarla a chiamare questa squadra in avanti a volte anche tornando indietro per andare solo a creare questo spazio poi ad attaccare e poi entra un pochino in uno specifico andando ad evidenziare quali sono i smarcamenti per esempio i fondamentali che i nostri giocatori devono conoscere e sapere attuare bene che sono chiaramente ad esempio il taglio esterno e interno alle spalle o davanti al diretto avversario i movimenti fuorilinea le sovrapposizioni comunque che vanno a favore l'inserimento esterno gli inserimenti diretti da parte del centrocampista nello spazio sono tutti quelli vari tipi di movimenti smarcamenti e corse che devono essere conosciute e ben fatte poi va chiaramente a parlare di quali sono gli aspetti fondamentali che sono appunto la relazione chiaramente tra il possessore e il ricevente quali sono le variabili che incidono su questa connessione che sono ovviamente gli avversari quindi il comportamento avversario quindi si sarà da riconoscere il fatto che magari gli avversari concedano la profondità o non la concedano come si comportano su un'eventuale palla scoperta come lavorano ad esempio i tersini come dal punto di vista della postura se magari sono posturati in modo tale che perdono un taglio alle spalle oppure concedono una filtrante interna vari aspetti che i nostri giocatori devono riconoscere per poter poi essere efficaci in questa ultima fase che è quella più difficile e però allo stesso tempo è anche quella determinante ovviamente poi va anche a evidenziare il fatto che quando troviamo squadre basse è fondamentale anche conoscere giocate e sviluppi che prevedono ad esempio combinazioni rapide sul corto come triangolazioni giocate a 2 a 3 che poi prevedano appunto combinazioni rapide che portino all'attacco dello spazio attraverso queste giocate a 2 a più giocatori e chiaramente poi finisce dicendo ricordando sempre che gli aspetti fondamentali sono appunto la conoscenza del tempo e dello spazio e che il tempo di giocata lo determina lo status del possessore quindi la capacità del possessore di poter fare la rifinitura mentre invece lo spazio ad attaccare lo scelio appunto il ricevente che deve essere in grado di leggere sia le possibilità del possessore che il comportamento avversario accenna ovviamente Daniele agli aspetti più importanti poi dopo li va a lavorare li va ad analizzare e a evidenziare attraverso le esercitazioni come al solito molto interessante quelle di Luca Daniele ad esempio questo Rondos molto carino un 3 più 1 contro 2 è interessante vedere la conformazione del campo qui dentro abbiamo un Rondos 3 giocatori esterni più 1 dentro contro 2 dove l'obiettivo è quello di dopo una serie di passaggi poi andare ad imbucare la palla in questo spazio per favorire gli inserimenti degli esterni dentro in questo spazio questa zona meta quindi si fa simulare un inserimento un taglio da fuori verso dentro è interessante notare la conformazione del campo perché questa struttura va a favorire le corse interne di taglio interno Luca Daniele utilizza molto questi campi diciamo che vedete anche questo campo qua ha fatto in questo modo la struttura del campo va poi a ad incidere poi sui comportamenti dei giocatori all'interno dell'esercitazione molte molte esercitazioni molto molto interessanti che vi invito ad andare a vedere veramente nel contributo perché sono veramente molto molto carine ben fatte che vanno a lavorare appunto in particolare sull'attacco della profondità vanno a stimolare costantemente questa ricerca dell'attacco della profondità abbiamo visto questo bel contenuto di Luca Daniele sulla come allenare appunto attraverso delle esercitazioni molto molto interessanti d'attacco della profondità vi ripeto questo articolo si trova nel focus di marzo 2022 all'interno dell'allenatore.net nel link nei link in descrizione trovate appunto il link per andare a vederlo direttamente oppure se non siete registrati per registrarvi scusate per abbonarvi all'allenatore.net io vi do appuntamento al prossimo video con un altro articolo sempre di marzo 2022 e alla prossima